Buonasera a tutti, il mio saluto va alle autorità presenti, agli studiosi, a tutto il pubblico. Siamo contenti di ospitare qui nella sede del nostro istituto la presentazione di questo volume di Pierpaolo Janni, un libro uscito nel mese di maggio per i tipi di biblioteca. Il libro rimanda, come si intuisce sin dal titolo, a quelle che sono le repubbliche partigiane del nord Italia, vere e proprie oasi di libertà in un'Italia sconvolta dalla guerra e dalla dittatura fascista e rappresenta il frutto di ricerche accurate di questo giovane ricercatore del 1982 su quella che è la missione della linea gotica, un interesse che l'autore frequenta per motivi di interesse, intelligenza verso un avvenimento così importante per la nostra storia, ma anche per una vicenda personale legata ad alcune testimonianze che raccoglie direttamente dalla voce del nonno Enzo Janni, pilota dell'aviazione italiana, combattente in Africa, poi partigiano sulle Alpi Apuane. Il generale Janni, nato nel 1914 e scomparso nel 2003, fu in prima linea della battaglia dell'Ambalagi, dove 4.000 italiani resistettero per oltre un mese. Tornato in Italia si unì alla resistenza nelle file di giustizia e libertà e dette un contributo fondamentale alla liberazione del nostro paese. Rischiò la sua vita, e questa è una cosa che ho detto prima a Pierpaolo, mi colpisce come tanti giovani italiani, rischiò la sua vita per difendere la libertà del nostro paese, per difendere un'idea di libertà del nostro paese. Ed ecco che proprio partendo da quelle che sono le vicende personali del generale Janni, che Pierpaolo si avvicina alla Seconda Guerra Mondiale, iniziando a studiare quelli che sono i personaggi, che hanno un ruolo di rilievo rispetto a questo tema. Scrive Pierpaolo Janni, avevo 17 anni quando iniziai a intervistare i protagonisti della resistenza apuana. Questi uomini, con il loro coraggio e la loro esperienza di vita, mi hanno insegnato molto e soprattutto mi hanno educato a comprendere il valore della libertà. Un esempio particolarmente significativo di come in realtà anche un adolescente possa trovare motivo di interesse nell'approfondimento della storia e di quella che deve essere la memoria collettiva del nostro paese. Ma Pierpaolo scrive giovanissimo un primo libro nel 2005 intitolato Dai sceli del Mar Rosso all'Italia, storia del pilota dell'aeronautica in sogli anni dall'Africa alla resistenza sulle Alpi Apuane. Ma qui approfondisce questo lavoro, entra a discutere di quello che è il ruolo di alcuni uomini. Io devo dire che sono molto colpito dalla figura di Domenico Azzari. Sono colpito, gli dicevo, per l'età, 23 anni, ma per il coraggio dimostrato nella difesa di questi valori. A un certo punto, ricorda bene, Pierpaolo dice Era stato addestrato ad Algeri dove in 15 giorni aveva preso i rudimenti del paragadutismo. Aveva capito il pericolo perché la percentuale della possibilità che queste missioni andassero a buon fine era meno del 10%. Insomma, pensare che un ragazzo di 23 anni metta a disposizione la propria vita per difendere questi valori credo che questo libro sia qualcosa di più di una ricerca seria fatta da uno storico sia appunto la difesa di una parte del nostro paese che probabilmente è giusto non solo studiare ma farne anche motivo di riflessione soprattutto per le nuove generazioni quell'idea di Italia che si forma grazie alla resistenza grazie appunto alla difesa della libertà e qui permettetemi di dire che probabilmente in questa tutela delle memorie collettive il ruolo dei partigiani è qualcosa che non dobbiamo mai smarrire dice ancora Pierpaolo sono uomini di diversa nazionalità ma uniti da un comune sentimento di libertà difendere difendere continuamente questa libertà la sua ricerca si muove su vari archivi dagli archivi nazionali inglesi all'Imperial War Museum di Londra all'archivio storico dell'Aeronautica Militare di Roma all'Istituto Storico della Resistenza di Modena all'archivio di Stato di Massa dico questo per far capire la serietà della ricerca che appunto è una cosa credo importante nella volontà di ricostruire con esattezza senza voler mai forzare le fonti questa vicenda mio nonno scrive ancora Pierpaolo parlando proprio delle sue ricerche diceva sempre quello che ho fatto l'ho fatto per un dovere che sentivo lottavo per un'Italia libera e finita la guerra non fece propaganda fu un eroe in sordina ed è morto da generale dell'Aeronautica Militare anche questo passaggio a me è piaciuto molto cioè questo senso del dovere di difesa delle istituzioni tutti i temi su cui forse vale la pena riflettere forse questo è uno dei motivi per cui Treccani è stata felice e qui ringrazio Michela Montevecchi che come dire ha chiesto e proposto che presentassimo qui nella nostra sede questo libro perché un po' il ruolo di Treccani è proprio di lavorare sulla difesa della memoria delle identità culturali e di quei valori attorno ai quali si è creata una comunità in conclusione vorrei ribadire che l'importanza di lavori come quello di Pierpaolo Ianni risiede non solo nel valore scientifico e storico diciamo di quei lavori per gli storici ma anche in quel ruolo civile morale passionale di continuare a diffondere fra le nuove generazioni in un paese a volte distratto quella memoria di eventi di cui davvero dobbiamo essere orgogliosi al contrario dimostrare come anche in quei momenti ci fu chi attraverso discorsi e scelte politiche avrebbe probabilmente scritto un'altra storia ma forse proprio per questo dobbiamo dire grazie a Pierpaolo Ianni grazie la parola va alla senatrice Montevecchi buonasera a tutti sono molto emozionata e molto contenta di essere qui oggi e parto subito con i ringraziamenti ringrazio il direttore della Treccani Massimo Brai perché per la seconda volta apre le porte dell'istituto dell'enciclopedia italiana ma una mia iniziativa quindi è coraggioso dimostra dimostra coraggio e per questo va va ringraziato sono particolarmente emozionata perché conosco Pierpaolo da qualche anno e mi capita di incrociarlo spesso per lavoro e quando mi ha portato questo libro con anche una velata emozione come mi stesse donando un frutto di un lavoro pedisseco costante faticoso che lo ha portato anche a viaggiare sulle tracce della storia di suo nonno ecco io ho provato una profonda tenerezza e una profonda ammirazione per l'impegno per la costanza e nel vedere un giovane così bello così bravo che rappresenta forse la parte migliore della nostra gioventù dei nostri giovani e ho pensato quindi di dare a Pierpaolo l'opportunità di condividere con un pubblico più ampio il frutto di questo suo lavoro ed è per questo che mi sono rivolta a Massimo Brai e gli ho proposto questa presentazione in questa sede così prestigiosa e ringrazio chiaramente anche tutto lo staff e tutte le persone che hanno collaborato all'organizzazione di questo evento e alla sua buona riuscita e ringrazio chiaramente tutti voi le autorità presenti il vice ambasciatore e Sardinando Imposimato la mia collega Sara Paglini i colleghi che sono seduti tra il pubblico per la partecipazione è importante questo libro è importante soprattutto in questo momento storico perché è un frammento di memoria un frammento di memoria la cui importanza è inversamente proporzionale diciamo al gioiellino alla dimensione di questa di questa storia come diceva il dottor Brai è importante conservare la nostra memoria è importante trasmetterla per iscritto ma anche oralmente grazie ad eventi come questo pertanto io adesso passo la parola alla mia collega Sara Paglini e vi ringrazio ancora per la partecipazione ringrazio anch'io tutti i presenti e tutte le persone che hanno avuto modo di ospitarci così gentilmente di partecipare a questo importante evento io sono doppiamente emozionata perché ho l'onore di collaborare di fare un percorso fianco a fianco a questo nuovo a questo nostro giovane ricercatore Paolo Ianni sono anni che viviamo insieme delle esperienze veramente forti di accrescimento e quindi posso dire di essere un po' un po' come la la come posso dire lo sento come un figlio lo sento come un figlio così come lui ha sentito come un figlio tutti i giovani della resistenza così come noi dobbiamo sentire come figli tutti coloro che hanno lasciato veramente una traccia in questo paese per donarci la cosa più bella che possiamo che dobbiamo essere coscienti di avere la libertà e la democrazia Paolo è una persona affidabile è una persona seria è una persona che non non ha mai messo avanti i suoi interessi rispetto agli interessi di qualcosa che è al di sopra di lui da lì si capisce anche l'educazione veramente unica che ha ricevuto da parte della sua famiglia da parte di suo nonno che ha lasciato in lui una traccia veramente indelebile lui è della zona alta toscana è la zona di Massacarrara le Alpi Apuane la linea gotica io stessa sono della zona dell'alta toscana e le cose che lui ha trovato ricercato le sento anche un pochino mie perché ha veramente fatto un lavoro di ricerca anche dei protagonisti come persone come il suo nonno il generale Ianni oppure anche in piccolo il partigiano Dunchi che io ho avuto l'onore di conoscere di persona e che non è molto tempo che ci ha lasciato quindi noi queste storie veramente le abbiamo scolpite dentro e credo che sia anche la fortuna di vivere in un territorio così con le radici ben salde su quelli che sono i nostri valori che il nostro giovanissimo ricercatore Paolo Ianni ha avuto modo di crescere e di accrescere quindi io lo ringrazio veramente ringrazio tutti voi e tutti coloro che potranno anche fruire del suo lavoro perché ricordiamoci i nostri giovani sono quelli che noi dobbiamo ottenere preziosamente in questo paese non dobbiamo far sì che se ne vadano fuori all'estero noi dobbiamo fare in modo che questi giovani debbano avere l'opportunità di potersi esprimere e di poter continuare a dare il frutto delle loro ricerche quindi grazie a tutti grazie di cuore e grazie a Paolo la parola al vice ambasciatore grazie sono Ken O'Flarci sono qui a Roma da otto mesi sono lieto di poter rappresentare l'ambasciata britannica a Roma qui oggi il Regno Unito e l'Italia sono oggi società prospere aperte dinamiche siamo davvero fortunati tanto che ci capita di poter dare per scontato la nostra libertà nella vita di tutti i giorni così come diamo per scontato anche la nostra capacità di voto nelle elezioni e di partecipare alle decisioni su come vogliamo lavorare come società in entrambi i nostri paesi ci sono continui dibattiti su come dovremo affrontare al meglio le sfide del ventunesimo secolo nei prossimi mesi sia il popolo britannico che quello italiano saranno chiamati a prendere decisioni fondamentali in referendum di grande importanza tuttavia a mio avviso è importante ricordare anche il passato in particolare quanto dobbiamo a tutti coloro che hanno combattuto durante la seconda guerra mondiale era quello un periodo in cui queste stesse libertà erano meno garantite e lo stesso principio della democrazia era in pericolo il popolo italiano ha sofferto più di tutti a causa di questa minaccia in quanto ex studente di storia italiana ricordo quanto fossi affascinato dalla storia dei partigiani italiani che hanno combattuto con coraggio per la libertà del loro paese e contro il fascismo il regno unito il mio paese è fiero di aver collaborato con i partigiani vogliamo mantenere viva la memoria di quella cooperazione sono stato lieto di aver avuto la possibilità di leggere dell'importante ricerca condotta dal dottore degli anni presso gli archivi nazionali di Kew Gardens a Londra le testimonianze che vi ha trovato lo hanno aiutato a ricostituire una straordinaria storia di coraggio tra cui quella di suo nonno Enzo Yanni il coraggio e la decisione di coloro che hanno combattuto per la libertà e contro il fascismo deve essere un esempio per tutti i partigiani che hanno messo in pericolo la loro vita per la liberazione dell'Italia devono essere sempre ricordati e onorati e la forte cooperazione di quegli anni tra gli italiani e gli britannici che difendevano la democrazia deve ispirarci nella cooperazione di cui abbiamo bisogno oggi per affrontare le nuove sfide di un mondo complesso voglio quindi ringraziare il dottore Yanni per aver scritto questo libro ve lo consiglio dal profondo del mio cuore grazie darei adesso la parola a Ferdinando Imposimato non c'è bisogno che ricordi che è un amico dell'enciclopedia ed è stato presidente in merito della corte di Cassazione sono veramente contento che sia qui con noi io ringrazio per Paolo Yanni per avermi invitato a questo incontro che cade in un momento particolare della nostra vita proprio perché tra qualche mese abbiamo referendum importante come ha ricordato il nostro amico rappresentante dell'ambasciata inglese qui a Roma io ricordo per essere stato iscritto per essere iscritto all'AMPI che il mio maestro che era Massimo Rendina parlava spesso di un suo amico inglese con cui aveva combattuto per la libertà dell'Italia quindi era un partigiano che aveva un rapporto molto affettuoso con questo mi pare che si chiamasse Tompkins però non sono sicuro di questo nome che lui evocava spesso quindi so il rapporto che esisteva tra i partigiani italiani e gli inglesi nella lotta di liberazione però voglio soprattutto ringraziare Pierpaolo per questo libro che ho letto con molto interesse perché è un libro che racconta la storia vera di un combattente per la libertà che non aveva intenzione di fare il partigiano che però è diventato partigiano perché dopo la guerra lui anziché passare alla Repubblica Sociale italiana come hanno fatto altri militari ha preferito partecipare alla lotta di liberazione quindi rischiando notevolmente la vita e molte di queste cose che riguardano proprio il racconto fatto da Pierpaolo Io le ho apprese direttamente nel corso di un processo al quale ho partecipato come difensore del comune di Valluccio per la difesa di parti civili di una strage che è stata commessa nell'appennino tosco-emiliano nel 1944 e sono rimasto sbalordito diciamo dall'orrore di queste stragi di civili che hanno coinvolto decine di donne di bambini di persone anziane di persone che non avevano alcun ruolo nella lotta di liberazione e l'armata Goering credo che fosse l'armata Hermann Goering ha sferrato degli attacchi feroci nei confronti di questa popolazione che era situata lungo la linea gotica proprio per creare terrore per impedire diciamo che si potesse creare una resistenza ai tedeschi questa cosa mi ha molto impressionato perché ho capito prima di tutto che la diciamo barbarie non era soltanto dei nazisti ma era anche dell'esercito tedesco questo è proprio provato da una sentenza che io ho qui con me nella quale è scritto proprio che c'è stata una partecipazione dell'esercito alle stragi questo mi spiace doverlo dire ma bisogna ricordarlo perché come è stato qui detto noi dobbiamo guardare al passato per capire il presente e prevedere il futuro anammanesi diceva Tucidide ai fini della diagnosi in vista della prognosi quello che è accaduto in passato si può ripetere e vorrei se mi è consentito leggere proprio una riflessione fatta da Moro che ha evocato uno scrittore inglese nel 1947 Herbert Matthews ha detto il fascismo italiano se ne andrà ma il fascismo mondiale internazionale le idee gli ideali e i desideri a cui esso risponde resteranno il fascismo sarà un'idea un'idra dalle molte teste e noi democratici di questa generazione non potremmo mai deporre le armi il fascismo ha le sue origini ben definite e trova le sue cause determinanti non solo nella rapace e rispettosa avidità di potere e di potenza di alcuni che lo produssero più immediatamente ma nel generale disordine nell'inezia di molti nell'ingenua e cieca buona fede di alcuni nel disagio del tormentatissimo dopoguerra nell'attivismo irrazionale del nazionalismo nella straordinaria carenza di autorità dello stato liberale e per ignavia liberticide ora queste frasi scritte da questo scrittore inglese nel 1947 sono profetiche perché il pericolo del ritorno del fascismo c'è e lo stiamo vedendo lo stiamo sperimentando proprio tutti i giorni quindi io credo che questo libro sia proprio opportuno per cercare di ridestare la memoria del passato ma per capire che il presente ci sta ponendo di fronte a una situazione che è parafascista tanto per essere eufemistici insomma dal punto di vista secondo me e siccome diceva Aristotele che quando vi è il pericolo di un attacco alla Costituzione repubblicana e alla democrazia quelli che conoscono la Costituzione devono creare motivi di allarme ed io credo di conoscere un po' la Costituzione e credo che sia mio dovere creare motivi di allarme io prendo spunto da questo libro per dire che noi dobbiamo mobilitarci non solo per ricordare il passato ma anche per sapere che se non si combatte per la libertà tutti i giorni questa libertà noi la possiamo perdere perché la libertà non è conquistata una volta e si può dire conquistata per sempre ecco quello che mi fa piacere è che un altro ufficiale dell'aeronautica e qui saluto gli ufficiali dell'aeronautica e quei presenti si sono battuti si è battuto per la difesa della libertà quindi accanto a uomini che hanno tradito diciamo i valori della libertà della indipendenza della democrazia ci sono stati uomini come Enzo gli anni che hanno dato l'esempio e il coraggio rischiando la loro vita quindi io non avevo provisto di fare la relazione comunque sono stato chiamato per fare qualche osservazione volevo dire che questa questa conoscenza è importante per me ma sarà importante anche per quelli che leggeranno questo libro che secondo me dobbiamo mobilitarci tutti per cercare di capire che cosa sta accadendo e evitare di sottovalutare delle situazioni di pericolo che possono crearsi e che come ha detto questo scrittore inglese evocato da Aldo Moro nel 1947 il fascismo mondiale non è finito ancora e noi dobbiamo batterci per evitare che questo fascismo possa riprendere il potere però noi abbiamo molta fiducia nel nostro esercito nello spirito democratico dei nostri militari e speriamo che con l'aiuto dell'Inghilterra che ringrazio per quello che ha fatto e per quello che fa ringrazio il ministro Braille ringrazio Sara Paglini che ha che ha partecipato con grande passione civile a questa a questo evento e la Michela Montevacchi per che credo che tutti quelli che hanno la possibilità di fare qualche cosa per difendere la libertà e per affermare i principi e i valori della democrazia devono mobilitarsi perché questo è un momento importante per la vita e per la difesa della nostra democrazia e della nostra costituzione repubblicana grazie forse inviterei l'autore qui al tavolo gli lascio io il posto e poi anche i vari interventi sì certo anche come dire gli amici dell'aeronautica li inviterei qui al tavolo buongiorno io sono il generale Lucio Bianchi sono il capo dell'ufficio generale della comunicazione dell'aeronautica militare italiana e sono qui in rappresentanza del capo di stato maggiore dell'aeronautica Enzo Veciarelli generale di squadra aerea che mi ha chiesto di rappresentarlo in quanto lui non poteva partecipare per altri impegni io voglio ringraziare sicuramente il dottor Ianni per averci sicuramente invitato prima di tutto mi fa piacere essere qui accanto a lei anzi a te perché tu sei un giovane che veramente comunque è piacevole stare ecco quello che voglio dire è che noi siamo veramente felici sotto il mio ufficio opera l'ufficio storico dell'aeronautica militare ed ecco per cui la principale ragione per cui io sono qua e siamo stati molto felici appassionati e veramente abbiamo supportato l'attività di ricerca del dottor Ianni perché per noi è stato un elemento fondamentale quello di portare all'attenzione la conoscenza della gente delle persone di tutti la figura del nonno di Enzo Ianni perché è in effetti un simbolo importante della storia dell'Italia e anche dell'aeronautica militare ovviamente per noi quindi è un immenso piacere essere qui il titolo del libro peraltro è così chiaro così lampante vuole significare una cosa veramente importante l'oasi di libertà che poi con la storia con l'evoluzione del paese si è allargata e diciamo che io qui sono qui a testimonare l'orgoglio dell'aeronautica militare di aver annoverato tra le sue fila il generale Ianni perché sicuramente è stato un elemento fondamentale per la rinascita del paese sicuramente per la creazione della speranza di crescita morale e materiale del paese che come diceva il dottor Imposimato bisogna sempre mantenere con attenzione e seguire con molta attenzione quindi grazie per aver scritto questo libro dottor Ianni e a nome dell'aeronautica ti ringraziamo tutti quanti sono io che ringrazio tutti voi per essere qui presenti oggi ringrazio l'istituto dell'enciclopedia italiana Treccani per aver reso possibile questo evento le senatrici Paglini e Montevecchi il generale Lucio Bianchi il direttore Massimo Brai il presidente merito della corte di Cassazione Ferdinando Imposimato e ringrazio anche tutti i rappresentanti delle associazioni di combattenti reduci che si impegnano ogni giorno per mantenere vivo il ricordo della nostra storia e che sono oggi qui presenti in sala questo libro che presento riguarda delle ricerche che ho condotto in questi anni e che sono partite da una vicenda che è quella della linea gotica quindi parlo della vicenda di donne e di uomini che vissero in un'area geografica difficilissima in un periodo che è quello della seconda guerra mondiale che vide il territorio appuano particolarmente colpito sia per gli eccidi e per le stragi che ricordava anche lo stesso Ferdinando Imposimato c'è una frase che mi ha sempre colpito di Tucidide che riferisce a Pericle il segreto della felicità è la libertà il segreto della libertà è il coraggio questo libro è stato scritto affinché la speranza dell'oggi possa essere nutrita dal coraggio di ieri un coraggio non dovuto all'incoscienza o la strontatezza dell'uomo che non teme il pericolo ma un coraggio che si coniuga in un quotidiano impegno per la difesa di quei valori senza i quali l'uomo cesserebbe di essere uomo come è nato questo libro innanzitutto io non ho ricordo precisamente non ho il nitido ricordo di quando mio nonno ha iniziato a raccontarmi le vicende della sua vita mi ricordo delle immagini paesaggi che lui descriveva quasi sempre visti dall'alto lui era un pilota mi parlava di difficoltà di personaggi di situazioni e parlava di queste vicende di guerra senza enfasi pacatamente ma anche in modo accurato e preciso anche se non in ordine cronologico ho però la certezza di quando ho iniziato a porgli le prime domande e a comprendere che quanto mi aveva raccontato non riguardava soltanto una memoria familiare ma riguardava e apparteneva alla memoria collettiva di un'intera comunità di uomini ho sentito quindi la necessità di mettere ordine alla narrazione ho sentito il bisogno di comprendere perché questi uomini si fossero esposti a così grandi rischi durante la seconda guerra mondiale ho sentito il dovere di ricordare e di trascrivere quello che erano i loro ricordi andando poi a ricercare negli archivi le testimonianze che mettevano in evidenza quello che era stato il loro coraggio e proprio per questo l'indagine poi si è allargata al Regno Unito ai National Archives di Londra come ricordava giustamente il viceambasciatore prima e partendo appunto da questa indagine ho cercato di illuminare un segmento nella linea della storia consapevole che quel segmento era stato importante nel determinare la direzione della storia insieme naturalmente ad altri elementi quindi era importante cercare di fare luce su questa missione perché attraverso questa missione era possibile riportare in luce il coraggio di questi uomini che ho avuto la fortuna di conoscere io partirei con delle slide per farvi capire meglio quello che è stato quella che è stata la mia ricerca come dicevo la ricerca parte dall'Italia ma viene poi condotta ai National Archives di Londra dove si trovano documenti molto importanti che sono quelli dell'SOI quindi delle Special Operation Executive ossia l'unità voluta fortemente da Winston Churchill per contrastare la potenza nazista all'interno dell'Europa le Special Operation Executive avevano previsto la possibilità di una serie di azioni e di una mappatura di tutto il territorio europeo ed in particolare in Italia ci furono alcuni agenti che furono paracadutati in territorio nemico per riuscire ad agevolare questa comunicazione tra gruppi partigiani e il comando centrale alleato oltre a quello che ho ritrovato all'interno dei National Archives è stato fondamentale andare all'archivio storico dell'aeronautica militare dove sono riuscito a trovare altri documenti che mi hanno aiutato a dare ordine a questa narrazione inoltre ci sono state ricerche anche nell'istituto storico di Modena e di Firenze e naturalmente tutto parte da questi dialoghi che io ho avuto con mio nonno in cui mi raccontava quella che era stata la sua vita durante quel periodo e mio nonno era un pilota dell'aeronautica militare e se devo raccontare e offrirvi un'immagine sicuramente è quella del volo degli aerei la sua passione per il volo era talmente forte che anche negli ultimi momenti della sua vita quando lui parlava del suo addestramento e dei suoi primi periodi nell'aviazione i suoi occhi assumevano una luce diversa quella luce che doveva avere quando poco più che ventenne era entrato nell'aeronautica militare proprio per questa sua passione lui entrò nell'aviazione e fu scelto per il primo stormocaccia dovebbe la possibilità di addestrarsi con le pattuglie acrobatiche del colonnello Fouget quindi un addestramento anche particolarmente impegnativo un addestramento sicuramente che comportava anche una particolare fatica ma lui lo faceva assolutamente con con piacere e compassione anche perché pensiamo che l'aeronautica all'epoca era ancora avvolta da quel velo leggendario derivante da figure come Francesco Baracca o il Barone Rosso ricordiamoci che l'aeronautica diventa un'arma autonoma nel 1923 quindi quando mio nonno entra nell'aeronautica l'aeronautica come arma autonoma esisteva da appena 14 anni quindi è importante pensare a questo aspetto pionieristico unito al suo senso di libertà che era molto forte oltre che di coerenza tant'è che lui fu uno dei pochi ufficiali a rifiutarsi di tesserarsi al partito nazionale fascista e questo è stato un fatto molto importante che però comportò per lui l'allontanamento dall'Italia e l'invio in Eritrea e poi in Etiopia e qui inizia un'avventura e una vita rocambolesca perché come veniva raccontato precedentemente ci fu la battaglia dell'Ambalagi ci fu la sconfitta italiana e mio nonno trovò il modo di evitare di finire in un campo di prigionia scappando dall'Eritrea e raggiungendo l'Arabia Saudita dove con l'aiuto di Ibn Saud noto in Europa col nome del Napoleone del deserto riuscì a tornare in Italia su una nave della Croce Rossa internazionale e in Italia trovò l'8 settembre e quindi iniziò il percorso della resistenza lui non non ebbe dubbi ed entrò nel partito d'azione nella brigata di giustizia e libertà oltre alla figura di mio nonno per scrivere questo libro ci sono state alcune fonti fondamentali che sono le testimonianze dirette Fausto Chiriconi Domenico Azzari Nardo Dunchi ora questi personaggi noi li vediamo anziani molto spesso siamo stati abituati a vedere questi partigiani partigiani come loro da anziani in televisione e spesso li consideriamo quasi come delle litografie ed è importante invece ricordare come erano da giovani e giustamente Massimo Brai ha evidenziato il fatto che erano tutti sotto i 30 anni ecco perché trovo importante questa seconda slide si fa un salto nel passato e si va nel 1943 e come vedete erano poco più che dei ragazzi dai 23 ai 29 anni Domenico Azzarri e lo stesso Fausto Chiriconi avevano appena 23 anni mio nonno ne aveva 29 però queste persone quando io li intervistavo e gli ho domandato più volte perché si fossero esposti a così grandi rischi durante la seconda guerra mondiale loro mi rispondevano che non c'era alternativa innanzitutto non si sentivano degli eroi sentivano semplicemente quel fatto anche se non era una cosa semplice a pensarci come un dovere perché di fronte alle stragi di fronte all'efferatezza della guerra di fronte al fatto delle persecuzioni contro gli ebrei non si poteva che reagire rischiando la propria vita e facendo quello che ha fatto di queste persone dei veri uomini è importante il ruolo di Domenico Azzari perché Domenico Azzari il 23 ottobre del 43 viene paracadutato in pieno territorio di guerra nella Lunigiana e il suo compito non è solo quello di agevolare l'attività delle brigate partigiane e cercare di coordinare una serie di voli e lanci di viveri armi e munizioni per le brigate partigiane che si stanno costituendo ma c'è anche un altro compito importante che è quello di riuscire a prendere contatto con tutti i prigionieri di guerra che erano sbandati in territorio italiano infatti c'erano una serie di prigionieri britannici e statunitensi che dopo l'8 settembre erano riusciti a fuggire dai campi di prigionia e si trovavano nell'area appenninica e avevano trovato inizialmente ospitalità presso famiglie di pastori e contadini e si unirono poi ai gruppi partigiani tant'è che Domenico Azzari entra in contatto con Gordon Lett che è uno dei protagonisti nella resistenza poana perché si rese artefice della costituzione di un battaglione internazionale all'interno del quale c'erano appunto persone di tutte le nazionalità anche russi statunitensi e britannici e che combatterono a fianco dei partigiani naturalmente la Repubblica Sociale vedeva questa attività in modo negativo e iniziarono i lanci di volantini come quello in tutto il territorio nelle zone montane per invitare i prigionieri di guerra a soggiacere all'ordine di rientrare sotto il controllo delle autorità della Repubblica di Salò nel frattempo la situazione a ridosso della linea gotica diventa molto difficile perché ci si incontra e si deve analizzare la situazione degli eccidi dei rastrellamenti il più grave a maggio nel 44 sono i cosiddetti fatti di Momio viene rastrellato l'intero territorio della Lunigiana valle a valle e dopo i fatti di Momio si comprende che l'efferatezza tedesca è dovuta a una precisa strategia il fatto che devono liberare l'area della Lunigiana per riuscire a costruire meglio le postazioni della linea gotica quindi sono una serie di rastrellamenti di attività che servono perché i tedeschi avevano la consapevolezza che gli alleati stavano avanzando e in previsione del fatto che la linea del fronte si sarebbe spostata più a nord dovevano iniziare a costruire una serie di installazioni lungo il territorio delle Alpi Appuane Appenninico e tutta l'area che andava dal Mar Tirreno al Mar Adriatico e questa operazione è condotta dall'organizzazione TOT che aveva ingegneri per lo più tedeschi e operai quasi integralmente italiani le postazioni della linea gotica si vedono tutt'oggi sono state costruite proprio per resistere e tutt'ora si vedono nel territorio appuano muri anticarro tracciati di filo spinato bunker case matte era un sistema integrato e non continuo un sistema di fortificazioni unito anche a zone che sfruttavano la morfologia del territorio e le appuane aiutavano molto da questo punto di vista perché i tedeschi avevano comunque una posizione di vantaggio rispetto agli alleati quindi la necessità per i partigiani è di entrare in azione al più presto per consegnare i piani della linea gotica agli alleati perché la situazione diventa sempre più tragica nel territorio appuano nella linea gotica occidentale vengono consumati nella sola estate del 1944 240 ecidi con 3740 morti quindi questo significa che ogni giorno morivano 31 civili fatti come questo mettono in evidenza che non ci si poteva tirare indietro e quindi era necessario riuscire a far avere agli alleati i carteggi precisi di tutte le postazioni tedesche che i partigiani avevano realizzato nella clandestinità e queste sono le documentazioni che sono riuscito a ritrovare all'interno dei National Archives proprio la preparazione di questa operazione condotta soprattutto da un ufficiale che poi vi farò vedere per comprendere ancora meglio quella che era la situazione dell'Europa in quegli anni questa era la mappa dell'Europa la Francia era ancora sotto il controllo tedesco così quasi tutta l'Europa dell'Est e gran parte dell'Italia settentrionale considerate che Roma verrà liberata solo il 4 giugno e lo sbarco in Normandia è del 6 giugno quindi siamo in un momento nel giugno del 44 in cui la guerra sta avendo una svolta e proprio dieci giorni dopo lo sbarco in Normandia viene paracadutato in territorio lunigianese Johnston un ufficiale britannico dell'SOI che dovrà appunto riuscire a condurre a termine tra le varie missioni anche la missione della linea gotica è giovanissimo anche Johnston ha solo 23 anni e sceglie Enzo Ianni e Fausto Chiriconi che all'epoca non si conoscevano ancora entrambi sia Enzo Ianni che Fausto Chiriconi appartenenti al partito d'azione di Carrara della brigata di giustizia e libertà e li sceglie per portare a termine la missione della linea gotica per portare cioè oltre le linee questi carteggi che i partigiani avevano realizzato e che era presso a poco una mappa simile a questa con tutte le postazioni però segnalate dettagliatamente soprattutto per quanto riguarda gli armamenti e per quanto riguarda il numero dei militari presenti in ogni postazione dati che gli alleati non riuscivano ad avere perché nonostante avessero portato diversi aerei da ricognizioni sopra le linee i tedeschi erano dei maestri nel camuffare le postazioni e quindi soltanto l'azione dei partigiani poteva riuscire in qualche modo a prendere atto in modo preciso di quella che era la situazione Johnston viene paracadutato nel nord della Toscana anche per un altro motivo perché alle spalle della linea gotica è nata la Repubblica di Monte Fiorino ed ecco il motivo per cui il libro si chiama Oasis of Freedom perché gli alleati chiamavano queste oasi di libertà che si costituivano appunto nel territorio dell'Italia settentrionale Oasis of Freedom che erano appunto le Repubbliche Partigiane ed è importantissimo ricordare che il primo atto che fece la Repubblica di Monte Fiorino fu quello di indire libere elezioni e questo non avveniva da vent'anni in Italia quindi un segnale fortissimo dato sia alla popolazione italiana dando la conferma che potevamo avere la forza di scuoterci dopo vent'anni di dittatura e soprattutto anche un segnale dato ai nazifascisti facendogli capire che non erano così forti così onnipotenti e la Repubblica di Monte Fiorino quindi doveva essere in tutti i modi agevolata ed ecco allora perché Johnston proprio in quel periodo e questi sono i carteggi che ho ritrovato all'Istituto della Resistenza di Modena chiede una serie di lanci e chiede e conferma che questi lanci siano stati effettuati lanci di viveri armi munizioni proprio per la Repubblica di Monte Fiorino e lanci simili vengono fatti anche in territorio lunigianese proprio perché la necessità è quella di sfondare la linea gotica Enzo Ianni quindi e Fausto Chiriconi si preparano per questa missione e gli vengono rilasciati alcuni documenti tra cui questo che è un lascia passare per riuscire a superare le linee e avere l'aiuto dei vari comitati di liberazione con cui avrebbero avuto contatto perché c'era un comitato di liberazione nazionale ma poi all'interno dei vari territori c'erano dei comitati di liberazione locali e c'era una forma di collegamento nonostante le difficoltà della guerra tra i vari gruppi partigiani che riuscivano nella clandestinità comunque a fare rete e il paesaggio che sia Enzo Ianni che Fausto Chiriconi incontrano e di cui mi hanno parlato è un paesaggio veramente drammatico loro incontrano villaggi bombardati città distrutte a Crespina hanno una terribile sorpresa perché tre ragazzi i renitenti e la leva erano stati impiccati agli alberi dai tedeschi e per di più questi ragazzi erano rimasti appesi agli alberi perché i tedeschi avevano dato l'ordine di non seppellirli quindi lì rientriamo proprio in una domanda atavica che è quello che è il dubbio dell'antigone quindi la sacralità comunque della vita della sepoltura sempre e comunque cosa che in quella guerra non fu rispettata e quindi la situazione in cui loro si trovano a giro è bene ricordarlo non è una situazione facile è una situazione in cui se li avessero trovati con questi carteggi avrebbero rischiato la fucilazione immediata ed è interessante ricordare come riuscirono a portare questi piani senza essere intercettati loro si muovevano con delle biciclette Fausto Chiriconi nascose i carteggi all'interno del fanale della bicicletta mentre mio nonno smontando le manopole della sua bicicletta aveva inserito all'interno della cavità i carteggi in questo modo i tedeschi non potevano assolutamente anche se li avessero perquisiti scoprire che loro avevano questi piani e in questo modo riescono a raggiungere Crespina dove inizialmente non hanno aiuto da parte dei partigiani locali proprio per questo fatto gravissimo di sangue che era avvenuto riescono poi a trovare una sistemazione non a Crespina ma in un'area vicino Crespina vicino alla terra di nessuno dove loro sentono sibilare di notte e di giorno i colpi dei mortai finché la quinta armata americana riprende la sua avanzata e possono quindi il 19 luglio del 44 consegnare i piani della linea gotica inizialmente cioè prendere contatto con la quinta armata per poi consegnare i piani della linea gotica all'ottava armata britannica e questi sono i documenti che ho ritrovato all'archivio dell'aeronautica militare dove appunto è riportato questo passaggio a Bagni di Casciana Fausto Chiriconi e Enzo Ianni vengono poi portati a Roma che è stata liberata da circa un mese e mezzo e hanno i primi riconoscimenti perché quello che loro hanno fatto da parte dell'ottava armata britannica viene considerato importantissimo soprattutto perché si rendono conto che nonostante le difficoltà di redigere dei piani in condizioni assolutamente difficili e precarie i nostri partigiani erano riusciti a fare un lavoro molto meticoloso molto preciso e ebbero il riconoscimento dello stesso marescialo Alexander che riconobbe il certificato di merito a mio nonno per il suo contributo alla causa della libertà ma l'impegno di mio nonno non finì con la consegna dei piani della linea gotica chiese odotenne di far parte della Balkan Air Force per continuare la guerra contro i nazisti nei Balcani e fu uno dei pochi ufficiali italiani aver avuto dagli alleati l'opportunità di tornare a volare con funzioni operative e ci furono poi molti riconoscimenti per quello che lui aveva fatto ci fu anche il cavalierato concesso dal presidente Gronchi il diploma d'onore del quarto stormo e numerosissime altre onoreficenze però la cosa più importante che questi uomini che questi partigiani che queste persone come mio nonno come Fausto Chiriconi come Leonardo Dunchi mi hanno insegnato e soprattutto il fatto che loro riuscirono con il loro esempio la loro dignità a riconquistare e far riconquistare all'Italia una posizione credibile e non è un caso che l'Italia unica tra le potenze sconfitte ebbe la possibilità di avere un'assemblea costituente di avere una propria costituzione e questo non è secondario e lo stesso Calamandrei lo ricorda infatti se voi volete andare scrive e questo è il discorso che pronunciò Calamandrei a Milano il 26 gennaio del 55 se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra costituzione andate nelle montagne dove caddero i partigiani nelle carceri dove furono imprigionati nei campi dove furono impiccati dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità della nazione andate là o giovani col pensiero perché là è nata la nostra costituzione il tributo più grande di fatti è proprio questo e avevo iniziato il mio discorso con quella frase di Pericle il segreto della felicità e la libertà il segreto della libertà e il coraggio questa è la cosa il tributo più grande quello che mi hanno insegnato queste persone che ho avuto l'onore di conoscere e quindi il ringraziamento e la possibilità di aver scritto questo libro va proprio a loro a Enzo Ianni a Domenico a Zarri Fausto Chiriconi Nardo Dunchi e il maggiore Johnston grazie a voi tutti per l'attenzione io vi ringrazio tutti insomma per essere venuti è stato un piacere essere qui e avere questa opportunità grazie ancora grazie a voi grazie a voi